Da giovedì a sabato prossimi l'urna contenente le spoglie mortali di San Gabriele della Dolorata compirà un pellegrinaggio a Teramo e Atri visitando le parrocchie dedicate al santo nelle due città. Il programma del pellegrinaggio prevede l'arrivo dell'urna del santo proveniente dal santuario giovedì alle 17 e 30 nella parrocchia di San Gabriele a Colleparco di Teramo. Qui dopo l'accoglienza ufficiale il vescovo di Teramo ed Atri, Monsignor Michele Seccia celebrerà la Santa Messa cui seguirà una veglia di preghiera guidata da Monsignor Paolo Iudice, vescovo ausiliare di Roma. Venerdì l'urna sosterà in parrocchia fino alle ore 16 quando partirà alla volta di Atri con sosta nella parrocchia di San Gabriele in Viale Risorgimento. Qui arriverà le 17 accolta da autorità civili e religiose. Seguirà la celebrazione eucaristica. Nella giornata di sabato si susseguiranno vari momenti di preghiera per bambini, ragazzi, malati, famiglie. In serata alle 17 e 30 il vescovo Seccia presiederà una solenne celebrazione eucaristica. Quindi l'urna dopo una fermata presso l'ospedale cittadino ripartirà per il suo santuario dove arriverà dopo una sosta nella parrocchia di Villapetto, sempre in provincia di Teramo.